Grazie, Presidente. Ovviamente noi non abbiamo tutto il tempo che ha avuto il Ministro per poter replicare al dibattito, però credo che si possano ovviamente fare alcune riflessioni ulteriori alla luce della replica del Ministro stesso. Io credo che la domanda che noi dobbiamo porci, la domanda che deve porsi il Ministro e il Governo, e in modo particolare la sinistra, che ripeto governa la giustizia del Paese da tre anni e quindi non può chiamarsi fuori rispetto a delle responsabilità politiche e amministrative chiare, la domanda che noi dobbiamo porci è se la giustizia oggi funziona meglio o peggio che in passato. Io credo che sia una domanda assolutamente legittima rispetto al riscontro che questo dibattito, dibattito tra pochi intimi, deve avere rispetto al Paese reale. E io credo che il Paese reale, il Paese che sta fuori da quest'Aula, che sta fuori da questo palazzo, oggi percepisce il funzionamento del sistema giustizia, tanto per quanto riguarda i singoli cittadini, tanto per quanto riguarda le imprese, un sistema di giustizia inefficiente, lento, che porta giustizia in tempi troppo lunghi. Noi sappiamo benissimo che una giustizia data in tempi troppo lunghi spesso e volentieri cade in una denegata giustizia. Siamo il Paese dove addirittura ci sono 34 persone, Ministro, 34 persone normali che sono accusate del reato di banda armata da 18 anni. 34 leghisti che per avere una camicia verde o per avere delle spillette della Lega da 18 anni, per un fatto gravissimo come reato di banda armata, sono sotto processo. Io credo che questo esempio, ed è uno dei tanti, è la cartina al tornasole di come il funzionamento del sistema giustizia in questo Paese non funziona. Ed è evidentemente responsabilità di chi governa, l'abbiamo avuta noi per alcuni anni e io ricordo le critiche che venivano ovviamente mosse anche a tutti i buoni propositi da parte del centro-destra quando governava il Paese, evidentemente oggi la responsabilità di migliorare e di rendere più efficiente, più funzionale, più rapido e migliore il funzionamento del sistema giustizia ricade su di voi. Io ho sempre ritenuto che fosse opportuno che alla giustizia ci fosse un Ministro politico e non tecnico. Rimane il fatto che la sinistra da tre anni governa la giustizia e io credo che i risultati, in modo particolare rispetto agli annunci, siano fortemente deludenti. Il delta tra gli annunci della conferenza stampa del 30 di giugno, per evitarci l'ultimo periodo, rispetto ai risultati che oggi noi vediamo, sono risultati fortemente deludenti e credo che la riforma, voi l'avete definita riforma, per me è una mini riforma della giustizia civile, era un'occasione importante per poter dare una risposta importante a famiglie e imprese. Noi abbiamo dato il nostro contributo, abbiamo dato la nostra disponibilità a discutere e a portare le migliorie necessarie per poter migliorare e rendere quella riforma una grande riforma del sistema giustizia. Io credo che con l'arbitrato, con la negoziazione assistita e con la possibilità di potersi separare di fronte al Sindaco non siano misure assolutamente sufficienti per dare una risposta di giustizia importante ai nostri cittadini, al Paese e alle imprese. Discutiamo e dialoghiamo. È evidente che la bocciatura delle risoluzioni che noi abbiamo presentato non è certamente un'apertura al confronto. Abbiamo una proposta diversa, abbiamo una proposta alternativa alla vostra. La nostra risoluzione puntualizza due aspetti. Da un lato, le dure contestazioni che noi muoviamo alla sinistra e al Governo in tema di giustizia. Vi sono degli errori, vi è una visione politica diversa tra la sinistra e la Lega, ad esempio su un tema, sul tema delle carceri. Non è vero che non facciamo proposte, noi abbiamo proposto due soluzioni per poter affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, che voi vi appuntate come merito. Per noi non è un merito. E le due soluzioni sono l'implementazione delle politiche di edilizia carceraria. Ministro, sono tre anni che noi chiediamo che fine hanno fatto i 500 milioni di euro rispetto al quale, tra l'altro c'è anche un'inchiesta aperta da parte della Procura di Roma, il cosiddetto piano carceri Alfano. 500 milioni di euro per poter implementare l'edilizia carceraria, per poter costruire nuove carceri, per migliorare i padiglioni esistenti, proprio per impedire che il problema del sovraffollamento venisse risolto attraverso gli svuotacarceri. E su questi 500 milioni di euro, visto che ci dite che con le vostre misure avete fatto risparmiare al Paese 50 milioni di euro, noi vi diciamo che ci sono 500 milioni di euro che non si sa che fine hanno fatto. E ancora, dei 53 mila detenuti presenti nelle nostre carceri, il 30%, quasi 17 mila, sono stranieri. Sono stranieri che ci costano circa un miliardo all'anno, se è vero come è vero che 53 milioni costano 3 miliardi all'anno. Io credo che una seria, maggiore, più puntuale politica di accordi con gli Stati esteri per far scontare la pena nei Paesi d'origine ai detenuti stranieri sia doverosa e le azioni sin qui mosse siano state assolutamente insufficienti. Avete scelto la via delle depenalizzazioni, avete scelto la via della non punibilità di fatti di particolare tenuità, avete scelto la via di far scontare gli ultimi 18 mesi ai domiciliari, avete scelto la via della liberazione anticipata speciale, 75 giorni di abbuono ogni sei mesi di carcere. Voglio ricordarle, visto che si parlava di corruzione, che 75 giorni di abbuono valgono anche per chi commette reati nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi è incoerente da un lato regalare 75 giorni di sconto e dall'altro lato tentare per poter soppire l'opinione pubblica arrabbiata rispetto ai fatti di Roma Capitale aumentare le pene editali nel minimo sulla corruzione. Avete deciso di dare 8 euro al giorno di risarcimento ai detenuti. Avete deciso di stanziare nell'ultima legge di stabilità 20 milioni di euro come credito d'imposta alle aziende che assumono ex detenuti o detenuti. Sono scelte politiche che non condividiamo, sono scelte politiche di cui vi assumete la totale responsabilità. Sono scelte politiche che portano oggi il Paese ad avere più paura. Avete smantellato la legge Bossi-Fini, cancellando il reato di immigrazione clandestina. Avete smantellato la legge ex Cigrielli sulla limitazione dei benefici ai recidivi. Per la Lega chi è recidivo, cioè chi è un delinquente abituale, non può avere dei benefici. Avete smantellato la Fini-Giovanardi, grazie anche all'aiuto della Corte Costituzionale, che sempre più diventa organo politico e meno di garanzia e di legittimità costituzionale. Avete smantellato tutte quelle norme in materia di sicurezza di cui oggi le conseguenze ricadono sui cittadini comuni. Il combinato disposto dei cinque svuotacarceri, degli sconti di pena e delinquenti, delle liberazioni anticipate speciali e preventive, del norme tipo la possibilità di non applicare le misure cautelari se il giudice ritiene con una valutazione anticipata che il soggetto verrà condannato a una pena inferiore a tre anni. Sono tutte conseguenze, insieme ai tagli, alle forze dell'ordine, insieme al fenomeno dell'immigrazione clandestina, insieme all'aumento del reate che si sta scatenando sui cittadini. I cittadini comuni hanno paura. I cittadini comuni vogliono l'applicazione di un principio che voi avete bellamente bypassato e bellamente negato, che è il principio della certezza della pena. Ed è per questo che io dico che in questi tre anni vi siete occupati troppo ed esclusivamente dei 60 mila che stanno dentro e vi siete dimenticati dei 60 milioni che stanno fuori. Perché i 60 milioni che stanno fuori vogliono semplicemente poter vivere tranquillamente, vogliono semplicemente poter avere la contezza che esiste una giustizia seria, una giustizia che fa il proprio compito, una giustizia rispetto alla quale chi sbaglia paga. Avete smantellato questo principio. Troppe volte in quest'Aula, da parte sua, da parte di chi l'ha preceduta, da parte delle forze politiche di maggioranza, abbiamo parlato e abbiamo portato proposte di legge, disegni di legge che si rivolgevano ai delinquenti. Non abbiamo mai sentito una parola chiara nei confronti delle vittime del reati. C'è una proposta di legge della lega che giace da me da anni in commissione in cui chiede di non applicare gli sconti di pena a chi si macchia di reati gravi e gravissimi, il cosiddetto abbattimento di un terzo di pena per chi commette reati puniti con la pena dell'ergastolo e la sinistra continua a non dare risposte. Vi nascondete dietro false pretese. Ministro, in questo momento, lei lo sa benissimo, c'è un cittadino italiano bergamasco, un imprenditore, Antonio Molella, che è stato condannato a sei anni di carcere, la cui unica colpa è quella di aver avuto un eccesso di legittima difesa. Un cittadino italiano si vede recapitare all'interno della propria abitazione un albanese clandestino, un criminale che mette in pericolo la vita sua e della propria famiglia. Questo cittadino italiano si difende, circostanze assolutamente legittime, comportamento assolutamente legittimo da parte di chiunque vede un criminale nella propria abitazione. Come finisce? Finisce che questo cittadino ormai da mesi è in carcere a scontare una pena ingiusta. Lei è informato di questa circostanza. Noi vogliamo e vorremmo che chi sbaglia paga e vada in galera. I cittadini onesti che vivono serenamente rispettando le regole possano tornare a credere in una giustizia che colpisce il criminale e che difende l'onesto. C'è una visione politica diversa. La rivendichiamo. Così come rivendichiamo la richiesta, la reitero. Ministro, ritiri immediatamente, inviti il Governo a ritirare immediatamente il decreto sulla depenalizzazione dei 157 reati. Ci sono delle prescrizioni, ma io credo che in questo momento di grave allarme sociale, di crisi economica che diventa una crisi sociale e che diventa anche una crisi dei valori legati alla sicurezza, lanciare questo messaggio di impunità al Paese tanto si può tranquillamente commettere dei reati, tanto si può tranquillamente commettere dei crimini gravi che voi considerate bagatellari e vado a concludere, ma che per l'opinione generale bagatellari non sono, è un messaggio profondamente sbagliato. Questo è il messaggio della sinistra, è il messaggio che noi non condividiamo, che noi combattiamo da un punto di vista politico, proponiamo una giustizia diversa, una giustizia alternativa, una giustizia che rende finalmente i cittadini onesti parte fondamentale di questo Paese. Gli svuotacarci sono vostri, ve li tenete e vi assumete la responsabilità di fronte al Paese di garantire impunità a chi commette reati.